Cudos, qua Gianfranco, è che continuano. A voi piacciono gli uomini con la barba? Ah, mi provocano quei. Sì, questi provano. Vabbè, ma se uno è bello e bello senza barba, con la barba, ma c'è tutta sta moda della barba stufata. Quindi Sabina, invece Simona, stessa. Se uno è bello e bello, non è che la barba... Non fa differenza. Anzi, la barba nasconde. Nasconde quindi, quindi, poi alla fine voi volete sempre la nerchia, non la barba. Oh, ma che dice? Fermate i giorni. Non è vero, non è vero. Fermate i giorni. Non è vero.